Anche ci arriva il secondo pensiero di Luigi Strada, al terzo ci giochiamo i numeri. Eccolo. Salvini pure, si è fatto due coglioni, che sembrano il Colosseo, con i meloni. Il marito sta a spasso, ma resistono Renzi e Calenda, pronti a subentrare con il Partito Democratico. Appassionante thriller, un turbo thriller.